Dopo il cambio del direttore sportivo della settimana scorsa, via Zangri, dentro Paglino, tante le voci contrastanti di problemi all'interno della società Alba Alcamo. Si è addirittura ipotizzato un ritorno a Marsala per il neopresidente Vinci. E' invece arrivato il comunicato stampa ufficiale che fa chiarezza sulla questione. Dunque sono infondate tutte quelle voci che sono circolate fino ad oggi di un probabile divorzio tra l'Alcamo e Luigi Vinci. Luigi Vinci è ancora, a tutti gli effetti, il presidente dell'Alcamo. Questo è quanto dichiarato dal numero uno dell'Alcamo. Sono venuto ad Alcamo qualche mese fa e di fatto non mi sono mai mosso. Smentisco tutte queste dicerie su di me. Qui ci sto bene. Ho trovato un gruppo di dirigenti che mi ha accolto bene e voglio finire con loro il campionato. Dove, come ho sempre dichiarato, è nelle mie intenzioni tentare di vincerlo. Ne approfitto per invitare tutti i tifosi a venire domenica prossima allo stadio ad incitare la squadra nel derby contro la Folgore. Quella di domenica è una partita importante. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di tutti voi. In riferimento alle voci che vedevano un suo ritorno a Marsala, dichiara Mi auguro che questo teatrino finisca e spero che questi brasiliani arrivino davvero e che facciano subito l'accordo per dare serenità all'ambiente che ne ha tanto bisogno.